sono papà di due bambine una di 15 anni l'altra di 16 mesi quindi una grossa disparità ma una gioia enorme marito di una moglie splendida che mi supporta e mi ha permesso di intraprendere questo percorso si sono allenatore ma sono prima un uomo era un ragazzo sono diventato un uomo sono marito un papà e un amico e faccio anche allenatore è ovvio nel mio lavoro ho grandi ambizioni mi sono già tolto soddisfazioni e sono ricerca sempre di grandi nuovi stimoli e nuove soddisfazioni Dionisi prima Chuck ambitions plenty achievements on the way Alessio Dionisi who's just started his third season in charge of Sassuolo was named Serie A's coach of the month for September sicuramente è importante ricevere un premio del genere allenando la squadra del livello del Sassuolo non è comune al tempo stesso riceverlo è sempre motivo d'orgoglio e questo fa piacere credo non solo a me ma allo staff alla squadra alla società sicuramente la settimana nella quale abbiamo affrontato due squadre importanti come Juve e Inter è stata significativa perché poi quando fai delle prestazioni del genere contro squadre di un livello diverso rispetto al tuo e riesci a ottenere un risultato pieno credo di non essere smentito se dico anche meritato riuscendo a vincerle entrambe con meriti devi portarti dietro con la consapevolezza che hai cresciuto senza aumentare la presunzione ma motivandoti e cercando di avere maggiore ambizione perché ovviamente dovremmo essere all'altezza di questo non essere ricordati solo per questo in questo campionato Berardi shooting shots mi sono guardato intorno e il gol era pazzesco e poi ripetendolo confermo questo una difficoltà incredibile un gol non comune che non tutti i giocatori che pochi giocatori fanno però nella partita precedente di giocate individuali ce ne sono state domenico ha fatto un assist per laurenti e fuori dal comune anche in quel caso poi non si è tramutato in gol e se ne parlava meno perché non ha non ha inciso sul risultato cioè lui è nato per giocare a calcio lui si diverte a giocare a calcio e credo che lo riporti anche nelle partite lo si vede un giocatore che ha doti da grande squadra che ha numeri da grande squadra c'è un campione su la carta la Lazio è una squadra più forte dello scorso anno sulla carta la Lazio è una squadra più forte dello scorso anno ha perso sicuramente un giocatore importante ma sono arrivati giocatori molto importanti anno scorso non abbiamo fatto gol perché abbiamo perso 2 a 0 l'andata e 2 a 0 al ritorno Solian Pinamonti ho stima dei miei giocatori non è facile giocare con così tanti giocatori offensivi per una squadra come come la nostra perché poi il rischio è che la coperta sia corta credo che non ci sia squadra in serie A ad oggi che si permette di giocare con quattro attaccanti se poi non fai la tua miglior prestazione difficilmente hai possibilità di ottenere stato positivo dal nostro punto di vista cerchiamo sempre di essere pericolosi di lavorare per il gol sapendo che la Lazio ha un potenziale superiore al nostro ma ce la giocheremo